a te che sei l'unica amica che io posso avere l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me a te che hai reso la mia vita bella da morire che riesci a renderla fatica un immenso piacere a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei sostanza dei sogni miei e a te che sei semplicemente sei compagna dei giorni miei sostanza dei sogni miei a te che sei semplicemente sei spesso a te che sei semplicemente sei o che sei Rieccoci, bentornati Ultimo step della seconda puntata di 4 chiacchiere con Hai studiato stasera, quindi ti ho lasciato sola Io odio essere impreparata Io arrivo sempre impreparato Ma questo è quello che è successo a scuola vent'anni fa A scuola ne ho preparato No, ne eri preparati, facevi filoni a tutt'andare Eh vabbè, ma prima si portava Ma siete andati a scuola insieme? No, no Eh, io sono più piccolo Non ho voluto dire così, ma io sono più piccolo, io sono piccolino Non mi vedi alto, ma sei piccolino Ma prima si portavano i filoni, adesso Non esistono nemmeno più le ville per fare i filoni Eh vabbè, vabbè, vabbè Va bene, noi siamo quasi in Siamo in chiusura Abbiamo tanti progetti Con Apia in mente Tanti progetti Tante speranze Velocemente Quanto tempo? Pochissimo Come fai? Ti direi Ti dico due secondi Un progetto dove uno ci ha messo una vita Un minuto e mezzo Per pensarlo Come fai? Un minuto e mezzo È impossibile Un minuto e mezzo Un minuto e mezzo Diciamo che Tu lo conosci perché te l'ho raccontato Sì Te l'ho raccontato Quindi Allora Tutto nasce dalla mia antica passione Per le radio private L'ho vissuta negli anni Della gioventù Eccetera eccetera Poi la mia Diciamo Attività Da adulto Mi ha fatto Ecco Il consiglio che davo prima ai giovani Ciò che ho imparato In età giovanile Poi mi è servita negli anni E anche questa esperienza Nella comunicazione radiofonica Mi è servita E la voglio utilizzare In maniera più concreta Con un progetto Ci sta a copiare Ci vuole copiare Ci sta a copiare Vuole fare concorrenza Voglio fare concorrenza Cosa voglio fare? Allora intanto A gennaio È nata un'idea Con l'amico Nicola Di Orio Perché non fare un giornale Della confederazione Ed è nato il Conapi Magazine È nato il Conapi Magazine È nato come tutte le cose Nascono improvvisate Con tutte le difficoltà Ma è nato E sta andando avanti Abbiamo Credo un bel seguito Abbiamo un bel numero di Follower Così si chiama Follower Follower La rovina del 2000 La rovina Io non ci capisco tanto Però Nicola mi aggiorna E mi dice È più social Nicola Sì si è più social E quindi voglio dire Qualcosa già è nato Poi l'idea Per la mia Diciamo Idea La mia Fissazione Chiamiamolo così Perché poi diventa proprio Un'ossessione Un'ossessione Diventa sì È quella di dare voce All'imprenditore Io credo che c'è un'energia creativa Una forza Organizzativa Unica In questi soggetti Che operano Dalla mattina alla sera Nella propria azienda Si alzano Un'ora prima degli altri Tornano a casa Un'ora dopo Combattono con le banche Con Con Il commercialista La finanza Questo e quest'altro Ci vuole una predisposizione A fare tutto questo E non arrendersi E mi piacerebbe Farle diventare Per una volta Protagonisti Perché credo che La società Specialmente quella giovanile Ha molto da imbarare Da queste persone Quindi dovrebbero raccontare La propria esperienza Dovrebbero raccontare La propria esperienza E quale migliore mezzo Una radio Una web tv Ecco noi vogliamo Realizzare una web tv Quindi non una radio Già c'è la radio Quindi una web tv Per dare voce A questi Protagonisti Minoritari Dell'economia italiana Che poi Tanto minoritari Non solo Perché sappiamo Rappresentano Il 95% Della nostra economia Bene Va bene Rispettato i tempi Nessuna volta Perfettamente Poi ci ritorneremo In un altro In un altro momento Ioannuzzo Noi dobbiamo salutare Dobbiamo salutare Perché subito dopo di noi Ci sarai Scalpi da me Stanno facendo il riscaldamento No no Ha fatto fare i capelli Uguali a lui Anche agli ospiti Che porta in radio Ma quello Il flaconcino Bisogna finirlo E quindi Va bene Noi Vi salutiamo qua Subito dopo di noi Ci sarà Ezio Riccardi Con il calcio che scotta E subito dopo Ezio Riccardi Ci sarà Ubuntu Ubuntu E noi domani Saremo in diretta Alle ore 17 Faremo un evento In esterna Quindi Seguiteci sui social Come dicevamo prima E poi la domenica Vi promettiamo Che vi lasciamo Domenica Domenica andiamo a messa No Domenica Bene Io vi lascio Con un brano Che è uscito E è stato pubblicato Proprio ultimamente 11 ottobre 2019 Esce il brano Omonimo dell'album Che sarà pubblicato Il 15 novembre A distanza di due anni Dall'ultimo album Amore gigante Esce la differenza 20esimo disco in studio Di Gianna Nannini Dove dice E chi lo sa meglio di te Che fa male l'indifferenza Mi manca solo una domanda Sai Mi porti via Se te ne vai Gianna Nannini La differenza Buona Ma dove vai Senza di me Hai visto quanta confusione Le strade tornano da noi Ma è proprio vero Mi porti via Mi porti via Se te ne vai E poi Non so chi sei Ma forse amare Non sapere mai abbastanza E ti credo un po' di più Quando non mi parli più E hai ragione tu In questo gioco vince solo chi si arrende Non te lo ricordi più Che me lo dicevi tu Ho abbracciato il deserto Fuori e dentro di me E tutto quello che avevo Io l'ho dato a te Sei ancora tu Ma tra noi due La faccio io La differenza Non te lo dirò mai più Non te lo faccio io Non te lo faccio io Questa è CRT Avete ascoltato Quattro chiacchiere con In studio Davide Iannuzzo Ed Edide Michele Il programma è stato offerto da Matullo Trattoria Pizzeria Viale della Libertà Melito Irpino Avellino Nato Sapore Bottega del Pane Piazza Italia 11 Melito Irpino Avellino Io sono stufa È arrivato il momento di parlare Zitta 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 Dobbiamo parlare Zitta 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 Il dialogo Dov'è il dialogo tra di noi? Zitta zitta Ma zitta perché? Perché sto ascoltando CRT Radio Allora sei perdonato CRT Radio È tutta un'altra musica Resetta la noia Connettiti a CRT Il programma è offerto da DFD Costruzioni Lavori edili generali Melito Irpino Avellino CRT ed Ezio Licardi presentano Il calcio che scotta Vi catapulteremo nei campionati di eccellenza e promozione Prima, seconda e terza categoria del calcio sannita Il calcio che scotta Il programma è offerto da Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare E soprattutto una spesa troppo grande da gestire Cambiamo casa Ce ne andiamo io e te Due cuori e una capanna Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo Piuttosto, sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios Multicombustibile a legna, pellet e nocciolino Possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri Ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa Accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi Però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti Helios ha la soluzione anche a questo Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati E in più possiamo godere delle interazioni fiscali previste Ma poi due cuori e la capanna Io scappo da Helios Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale Visita il sito www.heliostecnologie.it O seguici su Facebook e Instagram Per tutte le info chiamalo 0825 44 3004 Ma ci siamo già? E che spettacolo! Buonasera a tutti! Da Ezio Riccardi Eccoci qui alla seconda puntata del calcio che scotta Che spettacolo! Lo ribadisco perché stasera Ospiti proprio che fanno Boom! E me ne tolto i parole dalla bocca Boom! È vero! E ve li presento subito Allora ci abbiamo Il presidentissimo Il centrocampista Il capitano L'anima della Virtus Benevento Massimo Taddeo Un grande applauso! E mo' devo fare la presentazione di quest'altro signore qua Senti, dimmelo tu Come ti devo presentare? Come vuoi tu? Come voglio io Allora Ciao Ci vediamo prossimamente Ciao Davide Iannuzzo Allora ci abbiamo qui Visto che Parliamo soprattutto di seconda categoria stasera Per l'inizio di questo campionato Finalmente L'attaccante Della Virtus Benevento Gigi Magliulo Grande applauso! Eeeh E basta 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 Un applauso è stato piccolo Vediamo se di cui quest'altra cosa L'applauso aumenta E anche direttore sportivo Tra forza e coraggio Eeeh E tu applausi Ecco qua Ecco qua Allora Gigi Rompiamo subito il ghiaccio Senti c'è qualcuno che dice Che una doppia veste Non si può fare Ossia Direttore sportivo della forza e coraggio Calciatore della Virtus Benevento Sei d'accordo oppure no? Io dico che Con l'impegno Contanta domande No no Io credo di fare bene tutte e due le cose E su questo non c'è dubbio Quante cose faccio io? Eeeh E se volessi ascoltare a quelli che dicono Fai questo quello quell'altro L'importante è fare bene E separare poi tutte le cose Senza mischiare No no E' vero Massimo Quando Gigi sta in campo con la Virtus Benevento Sembra uno della forza e coraggio? No allora E però ce l'ha pensato eh Ce l'ha pensato No ti spiego perché Io la vedo leggermente diversa Ecco vogliamo sapere E' vero che Eeeh Sono Io la vedo leggermente diversa E' vero che